Ciao ragazzi, diamo il nome a questo composto. Come sempre individuiamo la catena di atomi di carbonio più lunga. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfetto, è questa qui. Ora dobbiamo assegnare le numerazioni ai sostituenti in modo tale da dare loro la numerazione più bassa possibile. Dunque, vediamo un po'. Se io partissi a numerare da qua avrei 1 bromo, 2, 3, 4, 5, e poi questo sostituente sul nome ci torniamo dopo. Se numerassi a partire da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. Ok, la numerazione migliore è quella a partire da questo atomo di carbonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi io ho un nonano, dove ho in 1 un bromo e poi in 5 ho un altro sostituente. Questo sostituente ha 1, 2, 3, 4 atomi di carbonio e questo tipo di sostituente, come abbiamo visto in un precedente video, ha un nome particolare, proveniente dalla nomenclatura tradizionale, diciamo, e si chiama sec butyl. Quindi io in 5 ho un sec butyl. Prima di nominare il composto dobbiamo ricordarci che il prefisso sec, quindi la S di sec, non deve essere tenuta nel conto alfabetico, quindi io devo solo tener conto della B di butyl. Perciò, ora che andiamo a mettere insieme tutto, partirò dal bromo, 1 bromo, poi 5 sec, lo metto fra parentesi giusto per ricordarlo, butyl, nonano. Grazie. Grazie. Grazie.